Benvenuti a Radio Parco, il notiziario del Parco dei Castelli Romani realizzato in collaborazione con Metacomunicazione. In redazione Andrea Titti. Le notizie. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha nominato la dottoressa Emanuela Angelone, nuova direttrice del parco. È possibile ritirare gratuitamente presso la sede di Villa Barattolo l'edizione 2020 del calendario del parco, quest'anno dedicata alla sugherita di Pomezia. Il Parco dei Castelli Romani ha regolamentato l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza sul territorio, a tutela della libertà e della privacy dei cittadini. Ricordiamo infine che la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore all'interno delle aree protette è vietata e sanzionata con pesanti molte. Per tutte le info consultate il sito www.parcocastelleromani.it Dal Parco dei Castelli Romani è tutto. Appuntamento al prossimo notiziario.